E no, di soldi già disponibili per le grandi infrastrutture, però poi la burocrazia e tutto il resto bloccano questi cantieri. Ma è possibile che non si riesce a sbloccare niente? O molto poco, per non essere ingenerosi? Infatti più delle volte più che un problema di investimenti è il problema di come poi questi investimenti non riescono ad essere utilizzati. Se penso anche all'idea del commissario che deve essere nominato per le cosiddette grandi opere, fatto dall'ultimo decreto sempre del governo precedente, alla fine è risultato anche difficile portare avanti questa azione. La ministra De Michele a un certo punto ha detto, ma no, stop, perché cerchiamo di procedere in un altro modo, riguardare quelle che possono essere le norme del codice per gli appalti che non hanno funzionato, che hanno reso magari un po' più rigido ancora il sistema. Questo è reale, io l'ho visto anche nell'ultima legge di bilancio. Noi abbiamo stanziato una cifra non indifferente per quanto riguarda il piano di grandi opere al sud, perché diciamo che lo sblocco deve partire anche da lì, perché a livello infrastrutturale le difficoltà ci sono. Dopodiché tu ti accorgi, quando fai la rendicontazione, che sulla cifra che viene stanziata riescono ad utilizzarne ben poca. Ci deve essere un lavoro fatto sulle figure professionali, che per esempio all'interno degli enti locali si devono occupare poi delle progettazioni. Noi, una grande denuncia che abbiamo è di questo tipo, perché poi la pubblica amministrazione non riesce ad assumere, abbiamo sentito prima i problemi che ci sono, non riesce ad assumere le figure di cui ha bisogno. Tutta la fase di progettazione è una fase complicata. Io capisco che siano questioni complesse, però ce le trasciniamo dietro da decenni, non da mesi. Ed è difficile perché tu risolvi un tassello ma immediatamente ne hai un altro. Non è un lavarsi le mani, è un lavoro che andrebbe concertato, per cui che deve fare la funzione pubblica insieme al Ministero dello Sviluppo, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è collegato.